Bella ragazzi io sono Martex ben tornati su un nuovissimo video mattutino Complimentoni a tutti coloro che sono già entrati nella squadra ragazzi davvero grazie ad ogni singolo membro Ma soprattutto per ogni singolo punto che state effettuando e che quindi state facendo accumulare alla squadra Prima di procedere con il video ragazzi datemi qualche secondo perché voglio spiegarvi alcune cose Quindi come funziona questo torneo Primissima cosa ci sono solamente 20.000 posti disponibili Ieri purtroppo non ne ho potuto parlare molto nel video mattutino perché i link ragazzi non erano stati resi disponibili e non si poteva partire prima L'unica cosa che dovete fare è cliccare sul link in descrizione raga per accedere al torneo Loggate con il vostro account Epic Games tranquilli ragazzi il sito è ufficiale di Fortnite Non ci sono assolutamente problemi quindi non preoccupatevi di questa cosa Una volta che siete dentro cliccate sulla dashboard ragazzi oggi dobbiamo superare i 10.000 membri L'ho detto cliccate sulla dashboard e scendete qui vi dice tutti i passaggi che dovete fare Ma ciò che interessa a noi in questo momento sono le sfide ragazzi e qui sono divise in due sezioni Quelle posizionate a sinistra e quindi nei riquadri più grandi sono le sfide dedicate alla community Ovvero a voi che state giocando per la squadra Ciò che dovrete fare oggi ad esempio è giocare 3 partite in squadre per ottenere 30 punti Dopodiché questa ricompensa è illimitata quindi elimina giocatori in singoli Ogni eliminazione vale 5 punti ragazzi ogni eliminazione ogni kill nella modalità solo Non dovete vincere per forza e quant'altro non dovete fare nulla oltre che a killare tutti i player Quelle che vedete in alto a destra invece e qui raga ieri si è creata davvero tanta ma tanta confusione Sono le sfide dedicate al creator in questo caso sfide per Martex Oggi per ottenere 50.000 punti ed aiutare la mega squad dovrò vincere una partita Iniziando con oggetti e armi di rarità grigia quindi proprio base E dopo ciascuna eliminazione potrai utilizzare oggetti e armi di livello di rarità successivo Vinci la partita usando armi e oggetti leggendari Va bene raga ieri abbiamo fatto il lancio del dado mamma mia L'amore nell'aria crea un biglietto di San Valentino ispirata a Fortnite 100.000 punti lo faremo in live non mancate Ieri raga il dado e tratte c'è qualcosa che non sai fare Non erano sfide dedicate a voi purtroppo quindi vi stavate preoccupando per nulla Tra l'altro complimenti perché siamo anche la squad più numerosa ragazzi davvero complimenti Invitate tutti quanti i vostri amici condividetegli il link in descrizione e invitateli ad entrare La cosa bella è che io posso vedere la classifica delle persone che sono dentro la mia squad Io addirittura sono sedicesimo son salito si sono aggiornati proprio ora i punti Complimenti ragazzi complimenti posso osservarvi Posso ragazzi osservarvi vi tengo d'occhio ragazzi io vi sto guardando in questo esatto momento Quindi forza e coraggio ragazzi perché dobbiamo spaccarli Dobbiamo arrivare primi anche perché è un torneo diviso in regioni ragazzi Ok è un torneo mondiale ma la classifica va anche a regioni oltre che globale Quindi raga se arriviamo primi in Italia tutta la squadra ragazzi Tutti coloro che hanno genato questa squad riceveranno i 5 premi Giorno 3 domani ci saranno altre sfide e ve le elencherò nel video mattutino Mi raccomando non mancate Poi ragazzi vi giuro che da ieri i game mi sono letteralmente cambiati Perché è così verde lì il prato? What? Ok che dobbiamo parlare un attimino del portale Però dicevamo raga mi sento un po' diverso Ogni volta che gioco ogni volta che faccio una kill una vittoria Mi sento non lo so ragazzi è come se contribuissi seriamente all'andamento della nostra squadra Quindi il senso di unione che si sta creando tramite questo torneo è davvero bello ragazzi Unirsi per una causa così anche perché poi alla fine non si vince nulla raga Anzi il primo raga il primo che arriverà in classifica a livello globale Si porterà a casa ben 25 mila dollari Però questi 25 mila dollari saranno donati ad un'associazione non profit Quindi ragazzi davvero qualcosa di bello Ecco perché io continuo a ringraziare tutte le persone che stanno genando la nostra squadra ragazzi Ogni singola persona è essenziale raga davvero Grazie a tutti quanti voi Ma questa cosa ce l'ho anche sotto ad ogni video, sotto ad ogni post, sotto ad ogni live ragazzi Ogni persona che viene a guardare e quindi dedica un po' di tempo della propria vita A quello che sto facendo io quotidianamente ragazzi Questo è un grazie da parte mia in generale Che va a racchiudere ogni singola cosa attorno a questo canale ragazzi davvero Grazie 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 per tutto Ieri ci trovavamo qui di fronte al portale di Tron E ragazzi miei non ci crederete ma hanno droppato immediatamente le skin nello shop Così cioè proprio non vi è più l'attesa in questi giorni Non so perché adesso le andiamo a scoprire velocemente Non so neppure che cosa abbiano droppato ragazzi Non so quanto costi il bundle Non so che skin e quanti altri oggetti ci potranno essere Ho visto solo una piccola anteprima ma poi ho chiuso perché voglio proprio l'effetto sorpresa assieme a voi Quindi andiamo nei questi oggetti e scopriamo che cosa ha droppato Vi ricordo il codice di creatore Martix da aggiornare ogni 14 giorni se volete sostenere direttamente il canale Belli miei questo è lo shop di oggi Ok L'armadietto di Loia è rimasto Sopra ovviamente abbiamo ancora il capodanno cinese E ok raga io comunque devo prendere il dragone reale Vi giuro ragazzi miei entro domani lo shop San Valentino è capodanno cinese tra l'altro è proprio oggi Ci siamo ci siamo ci siamo Skin che abbiamo già visto quindi saliamo Queste no Grimoire ha bella skin Poi con questo backpack così ad ologramma Carina 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 abbiamo un secondo stile Vediamolo velocemente Dov'è? Ok Eccola qui Pilota squallo delle sabbie Eccola primo e secondo stile Con e senza capuccio Ragazzi andiamo a guardare le emote 500 di 500 di bucks Di emote Super toxic Concentrazione pura 200 di bucks Emote attraversamente Mi piace Potenza stellare Mamma mia Vi ricordo che da questa traccia Parte una lobby music Che ascoltiamo ogni volta Light cycle Ma quante skin hanno troppato raga Ma state bene? Command line Bit stream Upload Bandwidth Datapad Firewall Proxy Cypher No Cosa? Ma è cavalcabile? Nooo Ragazzi È la megamoto Che vedevo nel trailer Di questo film Bellissimo Non mi dire che Quello è un dorso decorativo E si trasforma anche in piccone Allora Utilizzo il disco di identità Come dorso decorativo O text No vabbè Questo è un colore What? Aspetta Ok Che bello C'è È bello Ma è strano Prima e secondo stile Quindi con E senza casco Figo raga Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta davvero tanto Fatemi vedere le skin femminili Invece Ok Bella lei Mamma mia Molto più bello Del maschio Ragazzi Molto bella La versione femminile Guarda qui Aspetta 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 Fammi vedere Questa qui Che belle No Vabbè Ragazzi Che poi anche Senza backpack Mi piace un sacco Questo dettaglio Ragazzi Ovvero Dove si va Ad appoggiare Il nostro Piccone Comunque Il taglio Qui È fighissimo Accipigna Quindi 1500 Vibax Di skin Ed 800 Vibax Invece Per il deltaplano Che secondo me È il best Best Item Cosa ne pensate Ragazzi Vi piace lo shop Di oggi Tralasciando la parte Del capodanno cinese Qua sotto Che è Meravigliosa E non dobbiamo Proprio parlarne Ma io amo Questi mod L'amo Sound Sound Spettacolare Ma la migliore È proprio Lei Distratto Belli miei Noi ci becchiamo Tra pochissimi In live Oppure In un prossimo Video mattutino Grazie mille A tutti coloro Che joineranno La mia squadra Link in descrizione Mi raccomando Entrate E fate Tanti 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 punti Non rimanete Inattivi Altrimenti Venite Giccati Dal torneo E dalla piattaforma Stessa Nient'altro Un salutone Da Martex E come al solito Un bel Siamo ROTHER